Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 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 Vai Marco! Vai Marco la grande! Vai Marco! Vai! Sei forte Marco! Vai vai! Vai Marco! Vai Marco! Vai Marco! Grande Marco! Dai! grande Marco grande vai che sta finendo vai che sta finendo vai Vicenzo vai Vicenzo vai Vicenzo dai tre dai tre dai che sei avanti dai che sei avanti dai che c'è l'ultimo ok ok dai dai che sei avanti Vai, respira e fai serie a dieci. Vai, dai, piano piano. Marta, sali su. Vai, dai, bene, vai Marta. Vai, Marta. Vai, Marta. Resta, respira. Dai, riprendi, dai. Dai, 25, stai avanti, dai. Dai, Marta. Dai, Marta. Dai, Marta. Solo 20, più. dai marco più veloce forza dai 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 marco veloce dai che stai avanti kippa di più kippa forte kippali kippali grande grande dai dai due sedi da cinque forza marco veloce dai 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 7 solo 7 vai che con questo hai recuperato forza vai dai che sta arrivando dai 4 Marco che sei primo dai che sei primo vai Marco vai Lupe non è finito vabbè vai cazzo pressa dai dai e se tu ricevi pure i giuri se mi ripeghiamo il suo coso Samoni giusto dai 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 vai cazzo dai 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 più su più su vai 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 ancora 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 vai dai da lo tenere su da lo tenere su buttalo cosa mai quanto vuoi fare? 15 15 quando si deve rifare tutto vieni più avanti al giro vieni più avanti al giro forza tutto quello 15 vieni più avanti al giro la famiglia cazzo c'è cazzo c'è cazzo c'è cazzo barri poi lo vede tu scuota e poi da volare deve risalire un palco dai capo è di 20 minuti c'è tutti quelli e poi farei più dai dai cerco dai prendici giù dai vai più giù un altro un altro un altro un altro dai solo 5 attento dietro che ti pigli a calcio attento dietro Marco girati vieni in questa direzione stai di schiena forza dai 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 solo 5 dai 5 Marco 5 5 Marco dai dai 5 5 6 5 6 dai che ce la fai dai vai là bro c'è stupare c'è stupare veloce dai Marco veloce sali su calma calma sali dai dai c'è stupare dai vai su vai su 15 di questi alto tirati su forza dai Marco no no non li sa fare no no non li sa fare no no non li fa ti fa chi fa forte e tira tu dai cazzo dai 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 bro devi tirare vai su dai 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 Marco subito ce l'hai ce l'hai due ce l'hai due ce l'hai due ce l'hai due ok dai dai questo è brutto dai dai easy dai che stai finendo fallo per me dai spingi sto workout forza prendi aria su e prendi aria dai 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 prendi sto fidanciare prendi sto fidanciare dai prendi sto fidanciare dai 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 su 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 e poi ti cominci da casa dai dai che hai finito poi ti cominci da casa che non finisci mai dai è finito è una pazzia non è uno sport dai 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 è una pazzia è una pazzia dai dai è coraggio su su dai 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 tranquillo dai occhio occhio grande, grande tira su aria, tira c'è, c'è, c'è bravo 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 grande ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, vai, 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 va bene cazzo vai cazzo grande vai Marco forza che do vai vai tranquillo con calma concentrati minni fermare di fermare di una sola dai 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 13 dai 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 l'altra parte vai Marco dai dai tutt'ora tutt'ora dai che hai recuperato dai dai che hai recuperato dai dai che hai recuperato sei avanti dai dai che sei avanti dai dai ha finito 49 dai forza che fassi in testa vai vai tutt'ora una volta vai dai dai che stai finendo vai 65 dai dai che ne mancano 35 dai dai che c'è una cazzata dai finito dai 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 tranquillo concentrati concentrati dai concentrati dai 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 che finisce prima dai 900 ore 16 e 40 16 e 40 vai grande Marco si possono stare sotto al sole dai tirati su vieni resta d'accordo